Let's go! Bentornati ovetti su Super Mario Maker 2 featuring Luigi! Quindi adesso giochiamo! Eccoci qua, tre puzzle e il commento è un livello puzzle e quindi cominciamo! 11,68, ci sono ben tre puzzle da superare, vediamo se riusciamo ad essere abbastanza intelligenti oppure no. Ovviamente è un rompicapo, è per un giocatore, vediamo, ora, qualcosa qui, oh sì, beh, ciao, ok, devo fare qualcosa, oh, ah è vero la sfera mi segue, giusto, 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 comunque a quanto pare devo fare così, quindi il puzzle è sconfigge le piante piragna, ok, o meglio, questi. Suppongo di dover fare così con tutto, avrebbe senso, ok, qual è il puzzle però? Ah, il puzzle è che devo abbassare il tutto, giusto, oh no, 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 ok, ok, piano, chissà se è possibile, come, oh miei, come, come ho, ah, si poteva citare un po' il sistema, va bene, nessun problema, ce l'ho fatta, ok, prossimo puzzle. Giusto? Sì, però prima checkpoint, oh, c'è una porta, c'è qualcosa che escerà qui? Ehm, nope, ah, aspetta, aspetta, ok, cosa vuoi che io faccia, scusi, ah, devo prendere la chiave, questo l'ho capito, ma il puzzle qual è? Entrare nel tubo? No, entrare nella porta, sì, ok, secondo puzzle, ok, vai, destruggi, oh, troppo, ehm, vai, no, com'è? Ah, ok, posso fare così, allora, caricati, vai, perfetto, quindi è un bowling, oh, troppo, vai, oh, ok, se sbaglio, c'è la fine proprio, e ora, perfetto, perché c'era un P-switch, oh, meglio entrare in fretta qua dentro, meglio entrare in fretta, ah, fine, un attimo, è il terzo puzzle? Qual era il... mi sa che abbiamo saltato il secondo? In ogni caso, livello completato, mi piacciono i puzzle, quindi, fine livello, è un bel livello, corto ma bello, andiamo al prossimo. Super boss, checkpoint off, la gioia, vuol dire niente checkpoint, intanto, eh, tre tentativi, da tre persone, e nessuno lo ha battuto, forse, eh, la quarta volta è la volta buona? Chi lo sa? Ma proviamoci, ok, allora, cosa vuoi che io faccia? Cosa? Ah, aspetta, aspetta, posso prendere entrambi, giusto? Meglio prendere tutto, ok? Allora, dove vuoi che io vada? Posso andare qua? Cioè, ci vado? Ma perché? Trollata, vero? Ah, ok, perfetto, è un livello troll, la gioia dei livelli troll, vero? Allora, eh, questo coso abbiamo detto che non fa niente, vediamo un po' se effettivamente dà qualcosa oppure non dà niente, perfetto, allora, andiamo qua in alto ed evitiamo tutto e tutti, ok? Basta stare attenti, ok, vai, addio, tu, tumba, oh no, vai, ok, ho fatto bene, a quanto sembra, vai, adanazione, Dannazione! Vabbè, ciao, ehm, ciao a tutti, ciao, oh no, ciao Bowser, non mi colpire, please, dovevo forse tenere la cosa, ehm, oddio, ok, oh mio dio, quanti ce ne sono di Bowser? Non lo so, dovevo forse tenere la macchina, sembra di no perché non sembra fattibile con la macchina, eh, dove vuoi che io vada, scusi? Beh, posso andare qua? Posso fare così e ciao? Dovevo fare così? Perché sto facendo così, eh? Aia, eh, ok, no, 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 ciao, ok, ehm, ho battuto il livello, yeee! Livello completato, eh, non so neanche io come, ma ce l'ho fatta, quindi, prima di tutti, uhlala, prossimo livello, Escape the Cave, solamente i giocatori più forti possono abbattere questo livello, e 2,02 mi preoccupa un po', ma tentar non nuoce, quindi eccoci qui, Lilimera, è il, ah, è un livello di corsa, ma non è una speedrun, giusto? Sì, lo è, ovviamente lo è, ah, ah, ok, ricominciamo, ok, eh, vediamo quanto è stretta la speedrun, perché, in base a quanto è stretta, Ok, 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 potrei fare cose o non cose, vediamo un po', ok, qua è, corri dai tuon, ok, scialla, Oh no, il, oh Dio, dai, scendi, in fretta, via, ok, ok, allora, Oh, ho preso una cosa, mi sa che ce l'ho fatta? Sì, ok, bene, tana, questa è una bella corsa contro il tempo, avete visto che, se non sbaglio, mi sono avanzati quanti, 3 secondi, qualcosa del genere, però sì, corto ma bello, sì, bel livello, andiamo, Puzzle Pieces, pezzo per pezzo, il puzzle finisce, il mio primo livello, ok, proviamoci, 1 su 18 ha battuto il livello, quindi, Vediamo se sarò il secondo a battere il livello, devono, oh, ok, non devo subire danni, ed è un livello rompicapo, suppongo, visto che, sapete com'è, trollata, no, strano, Super Mario Bros 2, ok, Papà, c'è un fungo vita qui, bene, devo andare qua sopra, suppongo, vediamo un po', non devo subire, ah, aspetta, aha, non devo subire danni, ma posso fare così, ok, P switchi, ok, ah, devo, eh, ho fatto bene, abbiamo una chiave adesso, ma serve a qualcosa la chiave, non lo so, adesso vedremo, devo andare là, ok, oh, abbiamo anche sbloccato qualche altra cosa, vediamo un po', però, prima cosa c'è qua, poi vedremo il resto, porta, voglio tenere Super Mario Bros 2, avrò fatto bene, Sembra di sì, perfetto, no, 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 ok, allora, spara quelli, no, aspetta, spara solamente un tipo di razzo, aspetta, non serve sparare niente, basta andare qua, vero? Ah, no, cosa c'è invece nel tubo, allora, non c'è niente nel tubo, yeee, allora devo andare nella porta, suppongo evitare questi, perché, se, e, allora, devo andare là sopra, forse, Per andare là sopra cosa devo fare? Devo, no, eh, proviamo ad usare solo questi? No, non posso, ah, devo aspettare, ok, devo solo aspettare, va bene, eh, cos'era? FIORE DI FUOCO, che ci serve, per tornare indietro, ok, per poi prendere, qui, e ho fatto benissimo a lasciare questo spazio, perché mi serve, per andare qui, per sciogliere questi, e andare avanti, MONETA, CHIAVE, oh, grazie, oh, no, 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 ok, adesso, no, no, oh, beh, vediamo quanto ero vicino al traguardo, vai, vai, C'era una chiave Ah Ok, sì Avevo quasi finito Ma Ahimè Ahimè Ho preso dan Però adesso che ho capito come si fa E come devo andare avanti Non sembra essere così complessa la situazione Quindi andiamo Allora La prima cosa è questa Poi Attivalo Deve essere un off spento Vai Ora se torno indietro e faccio Posso andare qua Prendo questa pallina di coso perché mi va Ciao ciao Ora Dobbiamo tornare qua Quindi non ho capito cosa dovevo fare qua Perché alla fine Basta che sto fermo Sì Basta che sto fermo E mi accuccio Quindi Boh Cioè lo posso fare Non è un problema Vai giù Ne manca una Ok Ultimo colpo E Firefra Ora torniamo indietro e andiamo avanti Sì lo so è strano ma Va bene così Allora Vediamo Tu non ci interessi Ma posso andare qua sopra Sciogliere il ghiaccio un'altra volta E se non fallisco adesso Clic Che c'è qualcosa qua sopra No ok Allora Ripeto se non fallisco Dovrei esserci riuscito Vero? No E Ora Ok Vediamo un po' Se riusciamo ad andare qua No 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 Oh danazione Allora Siamo tornati qui Cosa vuoi che io faccia Gioco Devo andare Sopra a questi cosi Oppure devo andare sotto Mi sa che devo sfruttare entrambi Però Per adesso andiamo qua Nope Ho visto Il casino Allora Vediamo un po' Devo usare tutti e tre suppongo No? Vediamo un po' Se riescono ad andare avanti così adesso Ok Zona alta Dovrei farcela Siamo sicuri? Divi Nooo Guardate quanto ero vicino Un'altra volta Ok Allora si può fare Se vado all'ultimo O meglio nell'ultimo cannone Ok Ma mamma mia Adoro le condizioni speciali Voi già lo sapete Vero? Ok Ci vediamo un'altra volta alla fine Ma solamente quando avrò finito Perché bene o male Abbiamo già finito Cioè Devo solamente Arrivare in denne là Quindi Nessun problema Ci vediamo più tardi Vai Allora Se ho visto bene Sono tre Questo vuol dire Che se sono tre No Devo tornare indietro Cioè sono quattro Scusate Quattro pilastri E dicevo Se sono quattro pilastri Vuol dire che Se da qui Posso fare un bel po' di cose Giusto? Dai Salta Perfetto Ce l'ho fatta? Sì Ok Non mi interessa prendere Beh Quello che c'è oltre la porta Perché oltre la porta Ci sono solamente monete Perché l'abbiamo visto prima Ma abbiamo terminato il livello Bel livello Ok Nuovo record Nice Prossimo Speed Labyrinth Ok Per YouTube Ok 1 su 7 Ed è un Labirinto da speedrun Cito testualmente il commento Cosa intendi per labirinto Da speedrun Intendi che Devo Correre via Ed è un labirinto Quindi non devo perdermi Oltre al fatto che ho poco tempo Oppure no Beh intanto corro Perché posso E quindi corriamo Abbiamo 108 secondi ormai Non dovevo andare qua Perfetto Vediamo un po' Beh qua c'è Una trollata assurda Perfetto Non devo andare là sotto Non devo andare là sotto Andiamo qua sopra Sì dai Andiamo soprattutto Perché andare sopra conviene No Almeno secondo La mia testa Quindi Andiamo sopra E non dovevo andare sopra Quindi ricominciamo Il livello da capo Allora Che io debba tornare E fare qualche cosa strana Però intanto abbiamo visto Che là non devo andare Qua sicuramente C'è una trappola Guardate E Trappola Dai trappola Ah 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 Non me lo sarei mai aspettato Wow In un video O meglio In un livello speedrun Dove ci sono 700 miliardi di one up Confinate in una specie di Prigione insomma Wow Non mi sarei davvero mai aspettato Un qualcosa Eh chiave Del genere Parlando di cose del genere Devo andare adesso sopra Giusto? Sì Perché qui ho visto una porta E se la porta non si valigia Non è qui la porta Vero? È qui o no? Sì è qui Perfetto Allora Se andiamo qua dentro Siamo qui Dove c'è un'altra porta Che ci porta Qui dove c'è un tubo Che ci porta O meglio che ci tuba Va bene non importa Qui Dove posso fare questi salti Bellissimi e ben fatti Per andare Qua Ok Proviamo ad andare qua Ok Va bene Per adesso almeno Ok abbiamo bisogno Di un'altra chiave Con il poco tempo Che abbiamo La cosa mi preoccupa E ho il vago sospetto Che qua non ci sarà Neanche una chiave Vero? Esatto Quindi vuol dire Che ho perso una chiave Probabilmente Nello scenario precedente A meno che non c'è una chiave qua Ma non credo No no Questo non sembra un livello Da Oh mio dio Ci sono oggetti nascosti qua E Ce l'ho fatta Sì ok Vediamo se almeno Riesco a trovare la chiave Prima di uscire Così almeno posso rifare il labirinto Senza Perdere troppo tempo Allora Là ho visto che c'è qualcosa Ma pensavo Non ci fosse niente Vediamo un po' se c'è una chiave Unghi Ungo Vediamo un po' No Non c'è neanche una chiave No Quindi vuol dire che ho perso la chiave Probabilmente è Dall'altro lato Lassopra Ok Ricominciamo Oh bene Un labirinto speedrun Boccata d'aria Calda Perché fa caldo Ma non importa Allora Vediamo un po' Abbiamo visto che devo prima andare qua Ok Prendere questa chiave Andare qua sopra A meno che non servano due chiavi Ma non credo Facciamo una cosa Andando qua sotto Posso vedere se qua c'è una chiave o no Ricomincerò il livello da capo Non dovesse esserci una chiave Ok Quindi avevo ragione Fortuna che mi sono fidato il mio ultra istinto Quindi bisogna prendere Entrambe le chiavi per andare avanti Bene Bravissimo Tonksy Boy Allora Vediamo un po' Se riesco a fare così Ok Così E adesso Forse riesco a prendere la porta Abbiamo visto che non è niente di troppo complesso Perché non mi risponde più il controller Si sarà scaricato? Non dovrebbe Non dovrebbe per niente essersi scaricato L'ho messo in carica proprio ieri sera Quindi Allora Vediamo un po' Qua abbiamo fatto già tutto Devo adesso andare qua Dove c'è una porta Chiusa Vai 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 Perfetto Allora Da qui devo solamente andare nella porta E dovrei aver risolto tutti quanti i miei problemi Vero? Spero Magari c'è un altro tubo Perché ci serve un altro tubo Trollata No Andiamo sopra Ormai sono sopra Speriamo che sia la strada giusta Porta E Tubo E Fine Livello Perfetto Nice Paraparaparapapapa Ok Allora Quanti minuti siamo? Posso fare un altro livello Perfetto Se non è troppo lungo Almeno Se non è troppo lungo Nuovo record Nice Prossimo livello Dai Neanche a farlo apposta Ok Il tag è il rompicapo Ma Ne Velocissimo come livello La N è vicina alla C? No Anzi Ah è vicino allo spazio Ok allora Shalla Primo livello Spero che ti piaccia Ok 1 su 24 Scontro contro il boss Ovviamente Roy Perché Roy è il Coopaling più bello Ok E non accetto discussioni E adesso vediamo un po' Devo eliminare 3 Roy Va bene Vediamo un po' Cosa riesco a fare Intanto Hai detto che rompicapo? Ah stella Ok vai Quindi c'era un trucco Devo sconfiggere adesso 3 Roy Per caso Abbiamo la super star Fuori uno Fuori due Dov'è l'altro? Qua sotto sarà? No lava Ok come lava Allora Abbiamo una porta E abbiamo visto che C'era una stella Sotto un'altra porta Ehm È un rompicapo Potrebbe benissimo essere Questa porta come l'altra Quindi Proviamo questa Perché era quella più Lontana da raggiungere Insomma Beh Grazie Ora devo ricominciare Il livello da capo Non che sia un problema Per carità Però Ok allora Fungo Vediamo un po' Se riesco a raggiungere Un'altra volta I due Roy Qua c'è La stella Che mi darei subito Grazie mille il gioco Quindi la porta giusta Era la porta numero 1 Dai corri Ciao Roy E Ciao anche a te Roy E adesso salto Salto volante Veloce come luce Ok Sì Sì lo so Mi piace Ok Allora Eccoci qua Vediamo un po' Se posso andare in questa porta Senza morire Ok Quindi Beh C'è un motivo per cui la percentuale è abbastanza bassa Qua c'è qualcosa No Allora Cosa vuoi che io faccia Ce la faccio con un triplo salto Aspetta aspetta Ho visto qualcosa Sono io No Ok sono io Questo vuol dire che Se entrambe le porte sono sbagliate Ci deve essere un'altra porta da qualche altra parte Per adesso sconfigo gli altri due eroi E vediamo se riesco a fare un salto decente Magari devo davvero andare là sopra Vediamo un po' No qua non devo andare Ok No non devo andare qua Non si può andare là A meno che non c'è una porta qua sotto e non l'ho vista No non c'è Qua c'è qualcosa? No Non c'è niente Curioso Davvero curioso Non trovo l'uscita Qua sotto non c'è niente Non si può andare là Provo a fare un triplo salto ma non vi assicuro niente No un attimo Allora devo prenderlo bene il triplo salto Quindi è Uno Due Tre No non si può fare il triplo salto Proviamo a fare No non si può proprio andare là sopra Ok Quindi Vi ricordo Se c'è un blocco nascosto a random Indicatelo please Però non sembra esserci Quello è il punto A parte qua Qua non c'è niente Là non c'è niente Qua abbiamo visto che la porta è un inganno Allora se questa porta è falsa E l'altra anche lo è Cosa vuoi che io faccia? Devo tornare qua? Ho qualche dubbio Sono così cieco? Qua non c'è niente? No ok Qua? Niente Qua ci può essere un blocco nascosto? Può esserci? Anche se non credo ci sia un blocco nascosto No non c'è No l'avrei colpito adesso Quest'ora Qua non si può andare Sono Ok Va bene C'è forse Un commento che può aiutarci? Non credo Non c'è niente qua sopra Nessun blocco nascosto qua A meno che non c'è qualcosa qua No Sono Blocco bloccato Ci blocca Siamo bloccati insomma Perché Allora Là non c'è niente Lo spin jump non arriva da nessuna parte là Che io debba Un attimo Provo un'ultima cosa E seriamente è l'ultima cosa Che mi è venuta in mente Proviamo Non a prendere la stella A sconfiggere Un roi normalmente E usiamo il secondo Se è possibile Per andare di là Vediamo un po' È fattibile come cosa? Beh il roi passa da sotto Quindi è fattibile come cosa? Vieni qua Vieni qua roi Puoi andare qua? No non può andare qua Puoi venire qui per favore? Ok Sì può venire qua Ok quindi No Ok si può andare qua Ma c'è qualcosa qua sopra o no? Perché altrimenti non saprei niente Proviamo qua No non c'è niente qua Sono Un attimo solo Togliamo i commenti visto che non ci sono Esco giusto un attimo dal livello E vediamo adesso se Posso fare qualcosa o no C'è un commento? No non posso vedere i commenti Ah Perché Non ho trovato blocchi nascosti Non c'è un'indicazione di possibili blocchi nascosti Non posso portarmi roi in questo scenario A meno che non c'è un Una cosa che non ho visto Perché qua La porta non si apre neanche Ok Là sopra non c'era niente Quindi prendo la stella un'altra volta Vediamo se succede qualcosa Ma Non dovrete cambiare nulla vero? Qua non c'è nulla No ok Allora Ciao roi 1 Proviamo a tenere roi 2 Magari c'è una cosa là sotto Se è davvero così però È una cosa un po' brutta eh No 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 Ok Non importa Siamo comunque Ancora vivi e vegeti Allora Eh no Attenzione Dove erroi? 2 spin Basta Non si può fare il via vai qua Per andare là sopra Non è quello il problema Ok Ok Quindi vuol dire che posso fare così Ok Non so se Sto prendendo o perdendo elevazione Però Dannazione Eh Tribro salto Proviamoci Magari là sotto eh Ok Ok 1 2 1 2 No No Dannazione Ho premuto ZR Troppo tardi Vediamo un po' 1 2 3 1 2 3 1 2 Dannazione Si può fare bene con i roi Ma senza roi è un po' difficile Il punto è che spammando non si può fare Mamma mia Se è questa la meccanica Mi arrabbio non se quanto Perché Dannazione Sto premendo R e L Non è che non sto premendo Però non riesco a premerlo in tempo Ah Dannazione ho premuto Non ho neanche premuto ZL adesso Ok No sto scendendo Un attimo Ho sbagliato Non volevo uscire da qua Se è davvero come dico io È una cosa molto cattiva È davvero davvero molto cattiva Velocissimo sì ma Se sai dove andare Quindi Provo adesso A sconfiggere Con la stella Un roi E Senza stella L'altro roi E vediamo se ho ragione io E se è così Perché se non è così Non so andare avanti Ok Quindi vediamo un po' Quindi Primo roi Sconfitto con la stella Per forza L'altro roi Mi serve invece Senza stella Per poter rimbaltare Lassopra Quindi adesso vediamo Ti posso colpire Ok L'unica cosa che mi viene in mente In sintesi è che La potrebbe esserci Grazie mille Roi Qualcosa sotto Il coso Vediamo un po' Dov'è roi Ok Si può salire qua Visto si può salire Non è impossibile Non è che il roi Può spuntare qua adesso Sarebbe comoda Oh perfetto Bam Qua c'è una porta O no No Allora non so dove andare Mi spiace ma devo arrendermi Perché non ci sono indicazioni Non ci sono blocchi nascosti A meno che non trovo Un blocco nascosto tipo adesso No non ci sono Questi due O meglio queste due porte Non portano da nessuna parte Quindi Provo un'ultima volta E poi Vi prometto che smetto Perché Sì Allora Non c'è niente Né là Né qua A meno che Non c'è Una cosa molto cattiva Qua E vabbè Roi grazie Mi servi Roi mi servi Roi mi servi Dai Perché magari C'è qualcosa Là sotto Anche se non credo Proprio ma Tentarno nuoce No A questo punto Roi Ok Ok No Danazione Aspetta Roi puoi aiutarmi Per favore Va bene anche là Sì va bene Ok Ok Se è davvero così Però è una cosa brutta Allora Qua sotto Non ho controllato Cos'è Ok Non ho controllato qua sotto No non c'è niente Allora mi arrendo È un livello ma Perché non so come andare avanti E fine Ci vediamo al prossimo episodio See you Next time Baby